Trasferire migranti quanto prima da Lampedusa al resto d'Italia è questo l'unico modo per alleviare la pressione sull'unico hotspot dell'isola che spesso si trova in condizioni di sovraffollamento. È il caso di questo gruppo che dopo 24 ore di permanenza nel centro è stato trasferito dall'isola Porto in Pedocle grazie all'utilizzo di un traghetto di linea. La maggior parte sono migranti subsahariani che hanno lasciato la Tunisia dopo che nel paese sono stati lanciati attacchi razzisti contro la comunità africana da parte delle autorità locali. Queste due donne arrivano dalla Costa d'Avorio e Burkina Faso. Perché i tunisi non vogliono vedere qui, non siamo più interessati, non siamo più interessati, non siamo più interessati, non siamo più interessati. Noi siamo non deputati, siamo tutti i nostri amici che erano deputati, abbiamo già detto che è morto. Ho deciso di partire a Burkina perché c'era la guerra, non c'era la guerra, c'è perciò di entrare in Tunisia per entrare qui, ma non ho durato in Tunisia. È difficile perché non amo le nuove. Mentre aspettano di salire a bordo i migranti in attesa incrociano i molti turisti che scendono dal traghetto appena attraccato in Porto. Le opinioni delle persone che vivono sull'isola su questi arrivi di migranti quotidiani sono decisamente contrastanti. Molti ci hanno detto che il modo in cui gli arrivi vengono gestiti è decisamente migliore rispetto a quanto avveniva in passato. Ma se da un lato in molti si sono abituati a questi eventi, dall'altro tanti altri si sono detti preoccupati per l'immagine e la reputazione dell'isola, soprattutto per chi viene da fuori. Ma c'è tanta solidarietà, devo dire che è veramente da premio Nobel per questi signori che abbiamo qua, per i Lampedusani che sono qua. Però ovviamente poi quando si arriva all'estate tante volte ci sono delle disdette causa, magari cattiva pubblicità e quindi ne possono trarre sicuramente svantaggio le persone che hanno delle attività. I primi sbarchi sull'isola risalgono ai primi anni 90. L'accoglienza fa parte del DNA dei Lampedusani. All'epoca in cui non esisteva ancora l'hotspot ad offrire la prima accoglienza erano spesso le famiglie locali che vivevano sull'isola. Giorgia Orlandi, Euronews, Lampedusa.